Tutorial Russian Twist, esercizio utile per allenare l'addome. Sedersi a terra in posizione supina e con gambe piegate, sollevarle entrambe da terra mantenendo le ginocchia flesse, staccare quindi il busto dal pavimento di circa 45 gradi fino a formare una V con il corpo. Da questa posizione ruotare il busto a destra e a sinistra. Ad ogni rotazione è importante espirare perché la contrazione dei muscoli addominali in questo modo è facilitata. Quando ci si gira da una parte, quindi, si deve espirare, inspirare tornando al centro ed espirare di nuovo dall'altro lato. Inoltre è fondamentale mantenere sempre la schiena dritta altrimenti il rischio è di arrotondare la colonna, fletterla e quindi adottare un'errata postura.